Musica Buonasera e ben ritrovati gentili telespettatori, questo è Prima TG Flash delle ore 18, andiamo con le ultime notizie. Arriva puntuale infatti la bozza di Sanità Ministero della Salute nel monitoraggio Istituto Superiore di periodo 30 dicembre 2020-12 gennaio 2021. L'indice di trasmissibilità RT medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,97 in diminuzione dopo 5 settimane di crescita. Si osserva una diminuzione del rischio di un'epidemia non controllata e non gestibile nel Paese dovuta principalmente ad una diminuzione della probabilità di trasmissione del Covid-19, ma in un contesto in cui l'impatto sui servizi assistenziali rimane alto nella maggior parte delle regioni. Complessivamente sono 4 le regioni con classificazione di rischio alto, 11 con rischio moderato e 6 regioni con rischio basso. Due regioni Sicilia e Puglia hanno un RT puntuale maggiore di 1 anche nel limite inferiore, compatibile quindi con uno scenario di tipo 2, le altre con un RT puntuale compatibili con uno scenario invece di tipo 1. Una regione Olumbria e una provincia autonoma, quella di Bolzano, sono state invece classificate come rischio alto per la terza settimana consecutiva. Questo prevede specifiche misure da adottare a livello provinciale e regionale. Sono 12 le regioni che hanno un tasso di occupazione in terapia intensiva e o aree mediche sopra la soglia critica, stesso numero della settimana precedente. Il tasso di occupazione in terapia intensiva a livello invece nazionale è sceso sotto la soglia critica del 30%. L'epidemia resta in una fase delicata, si legge nella bozza del monitoraggio, ed un nuovo rapido aumento nel numero di casi nelle prossime settimane. È ancora possibile qualora non venissero mantenute rigorosamente misure di mitigazione sia a livello nazionale che a livello regionale. Prosegue intanto il caos vaccini in Italia con i ritardi reiterati nella consegna del secondo lotto Pfizer in tutte le regioni. Nel bollettino odierno sono oltre 1.293.941 le dosi di vaccino contro il Covid-19 finora somministrate in Italia. L'83% delle totali delle dosi disponibili pari a 1.558.635 unità. La somministrazione ha riguardato finora 814.678 donne e 479.263 uomini. Le persone che hanno ricevuto anche la seconda dose e quindi pienamente vaccinate sono ora 29.742. Le dosi sono state somministrate a 783.640 operatori sanitari, 391.002 unità di personale non sanitario e 108.542 ospiti di strutture residenziali. Infine sono 10.757 gli over 80 ad aver ricevuto il vaccino nella sezione distribuzioni vaccino per forniture. Il totale dei vaccini distribuiti comprende 1.511.835 di Pfizer-BioNTech e 46.900 di Moderna. Sul caos vaccini non ci sta la campagna. Nessuno mi dica che stiamo rispettando criteri oggettivi. Abbiamo assistito al mercato nero dei vaccini. Lo abbiamo denunciato e chiesto un riequilibrio che ancora non è avvenuto, dichiara De Luca nel corso della consueta diretta Facebook del venerdì. Entro il 2021 continueremo a vaccinare tutta la popolazione della Campania. A tal proposito ha detto la sua anche il sindaco di Napoli Luigi De Magistris. Andiamo ad ascoltare le sue parole. Ieri abbiamo fatto un incontro molto profigo con alcuni sindaci delle città metropolitane. siamo stati a lungo con lui. Devo dire che in maniera puntuale ci ha descritto il piano. Il piano che riguarda il paese, le città, il ruolo dei sindaci. È un piano che è molto condizionato dalla capacità dei produttori, non solo Pfizer, ma anche gli altri che devono arrivare, di rispettare gli impegni che sono presi. La progettualità di massima è quella di arrivare in autunno con la vaccinazione di massa, seppur non obbligatoria. Ma questo è condizionato alle produzioni. C'è ancora un moderato, se meno convinto, mettiamolo in questo modo, da parte loro di ottimismo rispetto a prima, ma però ritengo che si possa anche recuperare questo tempo che parzialmente si è perso in questi giorni. Io non dispero che l'inizio della primavera possa essere il momento in cui si inizia a intravedere quella luce per poi arrivarla a percepirla sempre più luminosa. Il Tar della Campania si è pronunciato e, come era già scritto, ha colto il ricorso presentato da alcuni genitori contro l'ordinanza della Regione Campania e ha deciso, con un provvedimento cautelare, la riapertura delle scuole superiori con modalità integrata. Dal prossimo 1 febbraio la Regione Campania dovrà ora confermarsi a quanto prescritto nel citato DPCM per le scuole secondarie superiori previa ricognizione degli atti attuativi e proattivi necessari a rendere effettiva la didattica in presenza nei limiti quantitativi, nei limiti minimi e nei limiti massimi prescritti dalla legge. Il rientro in classe dovrà avvenire entro il 1 febbraio per consentire di adottare tutte le misure ed anche in ragione dello stato avanzato dell'anno scolastico in corso, ormai alle soglie del secondo quadrimesso e dunque consumato per circa metà. C'è anche la possibilità di anticipare ove le condizioni locali lo consentissero il rientro in presenza del contingente di studenti individuato dai strumenti specifici. Un ingegnere informatico di 39 anni di Napoli indagato alla procura di Catania per adescamento, accesso, abuso e sistema informatico e sostituzione di persone. L'uomo avrebbe sottratto il profilo Facebook ad una donna e ne avrebbe creato un altro falso a nome della figlia minorenne di quest'ultima che utilizzava per adescare numerose minorenne 12 e 13 anni alle quali chiedeva delle foto e racconti intimi. Come scrive Lanza, l'indagine è stata avviata dopo la denuncia della donna alla polizia postale di Catania. L'uomo avrebbe anche contattato alcune amiche adulte della donna stessa dalle quali, con la scusa di parlare di problematiche adolescenziali delle figlie minorenne, avrebbe tentato di ottenere foto e dettagli intimi. Anche un'altra amica alla donna avrebbe nel frattempo subito il furto del suo profilo Facebook. Durante una perquisizione domiciliare eseguita invece dalla polizia postale sono stati sequestrati dispositivi informatici che hanno confermato la responsabilità della persona indagata. Effettuata nei comuni di Palma, Campania e Cancello e Arnone un'operazione di controllo straordinario interforze contro lo smaltimento illecito e i roghi di rifiuti industriali, artigianali e commerciali, sono entrati in azione 24 equipaggi per un totale di 63 unità interforze che tra le altre attività hanno presidiato con posti di blocco mobili le vie di accesso alle località o ai siti in cui abitualmente vengono abbandonati e quindi conferiti in modo illecito i rifiuti sul territorio controllando 7 attività imprenditoriali e altrettante commerciali di cui 4 sequestrate e 55 persone identificate di cui 4 denunciate tra lavoratori irregolari e rei di illeciti ambientali e 22 di queste anche sanzionate, 70 veicoli sono stati controllati di cui 62 sequestrati tra barche, autocarri e autocompattatori circa 48.410 invece metri quadri di aree sono stati sequestrati circa invece mille tonnellate di rifiuti speciali non pericolosi e centinaia di pneumatici fuori uso sequestrati ed oltre 22.063 euro di sanzioni combinate. L'Asl di Caserta ha diramato il consueto bollettino di aggiornamento coronavirus sul nostro territorio nella giornata del 22 gennaio si certificano infatti 104 nuovi casi positivi a cui si aggiungono 8 deceduti e 294 persone guarite i tamponi processati sono stati 1748 con un tasso di positività del 5,9% in discesa rispetto alle giornate precedenti Maddaloni e la città della provincia con il maggior numero di positivi cioè 280 seguita da Mondragone con 188 e Caserta con 171 riapre dopo anni di fermo il cantiere del Policlinico Universitario di Caserta una delle opere più importanti e strategiche del mezzogiorno e il nuovo traguardo per la sanità campana i lavori termineranno entro 32 mesi mentre già tra 20 mesi sarà pronto il polo didattico con un investimento da 174 milioni di cui 50 della regione Campania per arredi e tecnologie all'avanguardia la struttura si svilupperà su una superficie di 250 mila metri quadri con un piazzale d'accesso al pronto soccorso comprensivo di Eliporto e una nuova rete viaria così con un messaggio sulla propria pagina social il sindaco di Caserta Carlo Marino ha annunciato questo importante evento Arec Mili che è ufficialmente invece un giocatore dell'Olympique Marsiglia ha risolto la querelle col Napoli cedendo il giocatore a titolo temporaneo con un prestito con obbligo di riscatto la società francese l'attaccante è apparso subito molto sorridente ha pubblicato le foto dei video sui suoi canali social ha subito commentato con entusiasmo il suo approdo al Marsiglia il calciatore polacco ha scelto la maglia numero 19 per la sua nuova avventura queste le prime parole sono felice ed orgoglioso di annunciare il mio passaggio al Marsiglia ufficialmente uno dei più prestigiosi club europei io sono pronto per questa nuova avventura e mi sento bene per questa edizione di Prima TG Flash è tutto appuntamento tra qualche ora sempre sui nostri canali un caloroso arrivederci a presto a presto